anche tu ti vedi diciamo nel mirino di essere un complottista secondo tanti guarda guarda io sono nel mirino di tutto nel senso che ti dico tra un giorno avevo fatto un elenco delle cose che io sono io lavoro per il nuovo ordine mondiale io sono un rabbino che lavora sotto copertura in funzione antivaticana io sono uno che lavora per il vaticano in funzione antisemita io sono uno che lavora per la massoneria io sono uno che lavora per gli elohim io sono uno che lavora per un lucifero di aldebaran anche questo è stato detto io sono i loro cioè sono un elohim io sono un come si chiama un rettiliano mutaforma io penso di essere l'italiano che ha più datori di lavoro in assoluto veramente cioè il momento di crisi sono tant'è che a fine mese non so chi chiedere lo stipendio perché ognuno mi rimanda dall'altro perché mi dice no guarda che sto mese tu hai lavorato di più per quello là per cui contemporaneamente sono orgoglioso di essere un'altra cosa di essere uno che sta dando un sacco di lavoro perché c'è gente che ormai si occupa solo di me nell'intento di denigrarmi cioè non so se lo fanno perché sono pagati o perché non hanno altro da fare alcuni di loro lo fanno chiaramente lo vedo hanno aperto anche dei canali nella speranza appunto di racimolare qualche centesimo su youtube perché cioè questo è inutile di cioè voglio dire non è presunzione ma se si digita biglino se si mette il nome biglino ormai vengono fuori più di 300 mila pagine su google quindi è chiaro che insomma è un nome che fa da richiamo e quindi come dire se parlano di me diventano un pochettino hanno un po di visibilità in rete quindi sono contento di dare un po di lavoro a un po di lavoro a gente tra l'altro la cosa bella che c'è gente che fino a tre anni fa non sapeva neppure che nella bibbia ci fosse il termine elohim adesso gli esperti di elohim sono nati come i funghi dopo la pioggia tutti esperti di elohim tutti esperti di copia in colla su internet ovviamente no perché poi ripetono le stesse cose e così come stanno uscendo un sacco di libri sulla bibbia di gente che prima vabbè comunque va bene sono contento di dare lavoro a un sacco di gente dai beh diciamo che secondo te hai fatto hai fatto un po da catalizzatore no magari sì sì diciamo ho sdoganato certe cose per cui per cui va bene ok va bene fa parte del gioco come dice lui o lo fanno per mero guadagno perché diciamo il suo nome diciamo adesso è non risuona con quelle cose là su youtube o cose di sto genere quindi guadagnano visite e oppure sì esatto potrebbe essere facebook è palese è palese cioè che lo fanno proprio perché non fanno altro alcuni che non io li chiamo i compagni di merende tra l'altro non fanno altro che parlare di me 24 ore al giorno perché se non parla di me nessuno li si fila qualcuno mi ha fatto notare vai un po sul po sulla sulla pagina di cui io poi non vado sulle pagine nessuno perché non riesco neanche riesco sieno a vedere il 20 per cento di quello che si scrive sulle uniche mie due ufficiali quindi figuriamoci quelle delle altre dice ma vai un po a vedere sulla pagina di quello lì che parla sempre di te quando mette un post suo se in una settimana a 10 like può stappare una bottiglia di champagne e allora è costretto a parlare di te perché se parla di te almeno i like diventano diventano di più e ha un po di visibilità in rete quindi questo per alcuni è palese ma ripeto fa parte del gioco e va bene così insomma non è un problema chiaro beh se serve se serve comunque ad aprire la mente anche a una piccolissima percentuale che magari no no ma questi lo fanno soprattutto in chiave negativa nei miei però però io devo dire per esempio questa è una cosa bellissima c'è uno di quelli che mi attacca dall'inizio tra l'altro con un sacco di profili falsi eccetera che ha scritto un lungo articolo uno studio diciamo fra virgolette accademico contro di meno e l'ha pubblicato in rete dove vanno a leggere docenti universitari eccetera io un giorno ricevo una chiamata da parte di un docente e lo posso anche dire lui questo questo che mi ha chiamato il docente universitario si chiama pier francesco arces lo posso anche dire perché l'ha detto lui pubblicamente di fronte ai suoi studenti quindi non c'è problema che insegna diritto romano in una facoltà di giurisprudenza e lui ha letto questo articolo dove di me si dice veramente di tutto in negativo e ha detto ma chi cavolo è sto biglino no andiamo a vedere e quindi è andato a vedere delle conferenze si è comprato dei miei libri e ha detto ma sto biglino deve assolutamente venire a parlare in università quindi mi ha chiamato ottenuto una lezione attenzione non una conferenza nel senso che nella sua ora di lezione ha fatto fare lezione a me la lezione valeva come crediti per gli studenti quindi una lezione a tutti gli effetti poi ha partecipato a un seminario in un'altra università dove eravamo relatore assieme quindi devo dire che grazie a quello lì che ha scritto questo articolo dove mi ricordo anche i commenti che facevano i suoi compagni di merende a bravo fantastico cioè come dire questa volta l'hai distrutto è grazie a lui che sono entrato nelle università per cui adesso ho già parlato all'università del piemonte orientale due volte all'università milano bicocca prossima settimana vado a parlare all'università san raffaele poi andrò a parlare all'università dell'insubria grazie ad un articolo scritto per distruggermi questo è proprio è proprio quello che intendevo io che grazie al fatto che comunque si tratta perché tu ne parli male ne parli bene ma l'importante che se ne parli magari si riesce a far breccia nelle nelle menti che poco poco si approcciano con curiosità vera questa cosa qua e venga ad esempio di questo di questa storia che è raccontato maro io mi sentirei comunque il diritto diciamo di creare un nuovo detto invece di parlare bene parlare male importante che se ne parli direi parlare bene parlare male l'importante che se ne parli male sì soprattutto perché mi fanno un sacco di pubblicità mi fanno un sacco di pubblicità cioè ci sono anche lì a roma per esempio io ho cominciato a fare conferenze a roma grazie a quelli che parlano male di me cioè nel senso che degli organizzatori di conferenze mi hanno scoperto dopo aver letto cioè non sapevano niente di me mi hanno scoperto dopo aver letto le cose che si scrivevano contro di me gli è venuta la curiosità di andare a vedere cosa dico e mi hanno invitato per le conferenze cioè per cui insomma è tutto magnifico tutto questo tutto magnifico l'importante io spero solo che non se ne rendano conto che continuino a parlare male perché così continuano a fare continuano a fare pubblicità il giorno che se ne renderanno conto perderò questi sponsor gratuiti pazienza beh guarda che che il chiacchiericcio negativo abbia sempre avuto più potere di quello positivo questo è una cosa a soldata a soldata a soldata